Questa volta facciamo di nuovo una fusione tra i due corsi, quello di Tetsuji e quello di Fuseki, perché vediamo una partita del primo gennaio del 1932 tra Go Seigen, che forse è il più grande giocatore di Go mai esistito, e Segoe Kensaku. Nero è Goseigen, il bianco è Segoe Kensaku, questo è il classico Fuseki Shusaku, e una caratteristica di questa partita sono appunto le ripetizioni, anche nei Fuseki. Questa è la tipica estensione per andare a stabilizzare. e tre, allunga e toglie l'estensione di queste, però non può toglierle tutte. Anche il bianco se non viene fuori, e adesso Nero inizia a prendere i punti attaccando. Vabbè, facciamo il primo problemino di Fuseki qua. Lui va a giocare bianco. Seguire le regole c'è un gruppo che ha dei problemi, quindi bisognerebbe giocare ad aiutarlo. Sì. Ok, quale? Questo. Tu ti raccogli. Anche perché se Nero fa un'altra mossa con le due piede probabilmente sono morte. Eh, addirittura morte è difficile. Cos'è che potrebbe fare Nero? Così? 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 Allora, probabilmente quella che faccio è una bestialità, però proprio anche forzando... un po' una bestialità perché sembra anche il risultato che non dispiace a Nero, eh? ma se il problema sono solo queste pietre direi che mirano per salvarsi. Magari si può venire anche qua. Certo che c'è un muro spaventoso. Con un bel po' di taglia, eh, per carità. Per cui quando poi il bianco tira fuori questa pietra non è chiaro che per Nero sia facile difendere. Però, insomma, non sembra un brutto risultato. Queste però non sembrano morte. Poi bisogna vedere se ci si può permettere questo perché quando un Nero scende qui prende tante libertà, queste non ne hanno qualcosa di tante invece. non sembra così tragico. Ma quindi direi, ucciderle probabilmente no. Attaccarle invece sicuramente sì. ci sono varie possibilità, cioè anche solo andare a difendere questa zona piuttosto che attaccarle da sopra. Però poi bisognerà fare qualcosa contro questo se si viene su così. Quindi personalmente mi piacciono poco quando sono messo. Vedo che eravate tutti d'accordo, ero d'accordo pure io, ma per le inesplicabili ragioni dei giocatori molto forti bianco. Bianco ha deciso di non giocare lì. E gioca qui. E gioca qui. Esattamente. Che era l'altra pietra singola che c'era. O qui o lì. Nero non va a investire ulteriori pietre su questo lato dove ce ne sono già tante. E va qua. Adesso vado avanti un po' rapido. Vedo che qui viene giocato un giocatore abbastanza normale. Nero sopra. Bianco qua. Ok. Altro problema di Fuseki. Dove gioca nero adesso? No. Perché nero e bianco qua e non venire qui? Beh, perché comunque il guadagno è abbastanza limitato, no? E nero così fa una forma del tutto inattaccabile. Sì, però, diciamo, se nero non fa nulla, bianco potrebbe anche provare ad attaccarlo con delle mosse così, no? Con il pulito si fa questi punti. Tra l'altro questa qui è anche un ottimo candidato per la prossima mossa di bianco. E di conseguenza una mossa da queste parti potrebbe essere un candidato per la prossima di nero. Comunque, tocca nero. Dove va? Da nero giocherei a questa parte. Io giocherei un po' qui. Ah, forse è un po' piccolo però. A contatto? A contatto? A contatto no. Non si gioca. Qua è piccolo? Allora sì, questa è più grossa perché fa tutti questi punti. Mentre su questa bianco può fare qua. Se nero non vuole fare di far base nell'angolo lì, poi il bianco è di nuovo qua. Per cui questo è sicuramente più grosso. Se il bianco ci tiene agitando un'estensione piccolina da queste parti, va nei quai completamente qui. Per cui direi qua no, rimane tra quei e qui. Beh, possiamo dire che quello che il bianco è giù è forte, no? È vivo. Infatti abbiamo detto che con una mossa rischia di rimanere senza base. Sì. In questo minaccio che una seconda mossa impedisce anche l'entrata di bianco nell'angolo e il è rimanente. Ah, senza. Ho visto anche giocare qua. Un po' qui sopra. C'è sempre l'invasione da sotto che avete presente. Quella sopra comunque dà tanto spazio a bianco per andare a stabilizzarsi qui, magari anche giocando più sotto contatto. È meno sente verso bianco. Per cui se vuoi farti una base e togliere dall'avversario giochi qua. Però il bianco comunque può venire lì, forse anche qua. Non è un'altra cosa morosa. Sì, però di sicuro non ti gioca forse qua dentro perché in realtà poi tutti i rompiscidi qua. Ok. Comunque, va anche detto che se il bianco viene qui te ne puoi scappare tranquillamente, non ti prende più nessuno. Eh, però non so, dovrebbe grande. Ma poi un do è questo. Sì, ma se ne ero gioca questa. uno, due, tre, quattro, cinque, dieci, undici, dodici punti che sono tanti quanti questi. che ci dicono. Ah, perché ci dica di nemmeno? Di fai da una parte e di fai dall'altra. Infatti. Ah, cavolo, è vero questo modo che hai fatto di contare. Un modo di contare che io non faccio mai. Soprattutto questi punti che fa nero nell'angolo, come questi o con questi, sono molto difficili da togliere, mentre su questi ancora si può magari disquisire, su un angolo di questo genere no. E quando i due vengono raccontato, questi sono molto più sicuri di questi qua. Però se forse bianco deve aggiungere anche... Giusto. Se non lo so, potrebbero esserci quattro punti in mezzo. Già, quattro. Abbiamo tredda. 32, primo gennaio 32. Di chi? Go Segan nero, se vuoi pensare bianco. Va bene. Nero ha giocato qua. Per andare ad attaccare questa. E anche quella lì. perché se nero sale, ad esempio così, però questi punti vengono fatti. qui, diciamo che bianco in qualche modo difende, no? La mia idea... Il troppo qui non c'è il commento per cui potrei dirvi delle cavolate assolute. Comunque la mia idea è che così riesco davvero a restringere lo spazio che hanno queste pietre bianche. Se bianco non gliele vuole lasciare tutte, deve salire. Però un attacco ancora... Cioè questa ancora si attacca che chiude i punti. Sì. E bianco dovrà comunque scappare ancora. Si scappa andando ad appoggiarsi, finisce che nero fa questo. Si scappa così, obbligherà nero ad andare a difendere di là. che non sembra proprio una mossa per cui nero piange, anzi festeggia. Dopodiché qui iniziano ad esserci tante pietre bianche, però queste nere non le vedo in immediato pericolo. Forse bianco deve togli un po' di base, ma credo che con questa dovrebbe più o meno cavarsela. per cui forse la ragione per cui ho preferito giocare qui, piuttosto che una mossa del genere, è che intanto queste due comunque se la caveranno dopo un'estensione nell'angolo. e anzi obbliga bianco a togliere tanti punti a nero. Quindi magari preferisce giocare qui, se bianco difende allora gioca qua, però sembra veramente stretta la forma di bianco. Magari bianco va di là e poi dopo nero può provare qualcosa lì. e queste comunque possono sempre scappare. Quindi forse qui non la vede così problematica la situazione. Comunque su questa bianco non sta a difendere, ma scappa fuori subito. Nero va là. Cioè lui ha anticipato la mossa, anziché difendere, ha anticipato questa perché altrimenti qua dopo nero aveva due attacchi, sente che facciamo far fuori. Esattamente. E' anticipato questa per neutralizzare subito la possibilità. bianco non sta a difendere da queste parti. Lascia perdere e prova a stabilizzare prima questa. Giocando lì. Nero adesso. Contraattacca. Qui c'è un certo scambio in cui si picchiano un po'. Ma che strano modo di giocare. Bianco. Io. Io. Non dovrebbe neanche... che va a connetterle comunque? Beh, questo comunque fa un'occhia. Ah, ecco. Nero comunque incassa tutti i punti. di fare tessuto, voglio farepiare i punti. Ora. Adesso. Ora. Sempre. Adesso. Pugliano. Nero è uscito contro attacca, neanche provo a fare la stessa cosa di prima uscire e adesso Nero gioco una mossa per andare a collegare questa pietra a queste.